Vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. Fu Marinetti, nel suo manifesto di 111 anni fa, a lanciare la sfida alle stelle quel 20 febbraio del 1909 sulle Figaro. Il manifesto ottenne notorietà internazionale, ma rimarchiamo come fosse prima apparso su giornali italiani. I futuristi scrivevano libri che facevano discutere e fondavano riviste che usavano come martelli per scuotere coscienze e formare una classe di innovatori, degli allegri incendiari. Al centro del futurismo è l'uomo nuovo, il mondo nuovo, che per i futuristi è in realtà un disordine nuovo, ma creativo. Il futurismo è senza confini, fenomeno mondiale, ma al tempo stesso è pervaso da morditalia e nazionalismo. La concezione del mondo marinettiana si trova nei nomi dati alle sue tre figlie, Ala, Luce e Vittoria, spentasi recentemente. Memoria della famiglia Marinetti, tenuta viva da Francesca Barbi Marinetti e dagli altri discendenti. Vittoria, insieme alla madre Benedetta e alle sorelle Ala e Luce, è stato un riferimento per gli artisti futuristi viventi. Peruzzi, Crali, Dottori, Sanzin, Benedetto delle Site e altri ancora. E per gli studiosi del movimento di avanguardia, testimoniando tuttora l'attualità del suo messaggio artistico, così come attuale il messaggio del manifesto. E ancora una volta, ritti sulla cima del mondo, noi scagliamo la nostra sfida alle stelle.